GF VIP, diretta 20 marzo, terza finalista nuovo eliminato Daniele Dal Moro non ci sarà. Buonasera, lunedì 20 marzo, in prima serata su canale 5 43 esimo appuntamento con il grande fratello VIP. Il reality show prodotto da Endemol Scine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Nella puntata di questa scoprire chi sarà il terzo finalista e il nuovo eliminato. Dopo l'espulsione di sabato scorso Daniele Dal Moro si è sfogato su Instagram annunciando che non sarà presente nella puntata che andrà in onda questa sera. Dovevo essere in studio lunedì a scritto Dal Moro questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni. Solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come una latitante. Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul grande fratello dei figli e figliastri. Questa è una promessa. Antonella Fiordelisi, Jaele Dedona, Milena Miconi e Nikita Pelizzon questa sera sono al televoto che avrà un duplice verdetto, decreterà la terza finalista di GF VIP 7 e anche chi dovrà abbandonare il gioco e la casa. In base a chi sarà la più votata e chi la meno votata dal pubblico. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.